Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. A Scavone 20 famiglie che occupano abusivamente appartamenti delle case popolari sono sotto la minaccia dello sgombero entro il 12 dicembre. Nonostante molti abbiano partecipato al bando di regolarizzazione l'ordine di lasciare le case è arrivato per tutti. Il sindaco Terrenziano Di Stefano è intervenuto aprendo un dialogo con l'istituto case popolari di Caltanissetta per cercare una mediazione e scongiurare che queste famiglie finiscano per strada. 20 famiglie che da anni vivono nelle case popolari del quartiere Scavone occupate abusivamente temono di essere sfrattate entro il 12 dicembre. L'allarme è scattato con l'arrivo degli ordini di sgombero nonostante molti abbiano partecipato al bando di regolarizzazione lanciato dallo IACP lo scorso anno. La preoccupazione principale è che queste famiglie già in una situazione di precarietà possano ritrovarsi senza un tetto. Il sindaco Terrenziano Di Stefano, consapevole della gravità e la situazione, ha avviato un confronto diretto con l'istituto case popolari di Caltanissetta per trovare una soluzione e garantire che nessuno finisca per strada. L'obiettivo è quello di evitare lo sgombero forzato e valutare le possibilità di regolarizzazione per gli attuali occupanti. Nessuno si potrà permettere di mettere per strada delle famiglie specialmente in presenza di disabili o di bambini. C'è un'interlocuzione attiva con l'OIACP di Caltanissetta. Come amministrazione comunale abbiamo già convocato per la prossima settimana un incontro proprio per definire le criticità che stanno piano piano preoccupando i nostri concittadini e in maniera particolare quelle famiglie che al momento risiedono in questi locali dell'OIACP. Il primo cittadino inoltre ha chiesto una ricognizione urgente degli appartamenti sfitti presenti nel complesso di Scavone. Decine di immobili sono vuoti e in condizioni di degrado e potrebbero essere assegnati in tempi brevi a chi ne ha bisogno. L'incontro che ci sarà la prossima settimana verte principalmente nel fare una ricognizione. Noi come Comune di Gela chiederemo una ricognizione puntuale di tutti gli immobili dell'OIACP che sono presenti nel nostro territorio e poi a seguito di questo incontro ovviamente cercare una soluzione che potrebbe essere, uso il condizionale per non magari illudere nessuno, ma potrebbe essere quello appunto di regolarizzare queste famiglie. Ed è proprio la regolarizzazione che chiedono queste famiglie pur riconoscendo l'illegalità dell'occupazione ma sottolineando di averlo fatto per necessità. Sperano in una soluzione che possa stabilizzare la loro situazione e prevenire lo sgombero. Il presidente della regione siciliana Schifani ha rappresentato al commissario dell'Acqua l'importanza di riattivare la prima possibile tra i dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani ormai dismessi da oltre 10 anni. Il governo della regione ha già stanziato 90 milioni di euro all'interno dell'accordo di coesione sottoscritto col governo nazionale per accelerare l'iter il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto e ottenuto da Roma che ad occuparsene sia il commissario nazionale al quale la legge ha assegnato pieni poteri di deroga sui tempi di realizzazione. Ieri pomeriggio il presidente siciliano ha incontrato a Palazzo d'Orlean il commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dall'Acqua che da oggi effettuerà un sopralluogo nei tre siti che occupano i dissalatori e nel contempo approfondirà tutte le procedure per l'avvio del percorso di realizzazione dei tre impianti definitivi da completare entro la prossima estate. Alcuni residenti di via Bartola hanno organizzato un sit-in per sollecitare il completamento del museo a cielo aperto dopo che i lavori sono stati nuovamente fermati. Alla protesta hanno partecipato l'assessore Viviana Altamore e il consigliere comunale Massimo Giorrannello. La pausa nei lavori sembra dovuta all'attesa dei contenuti multimediali della sovrintendenza per il totem descrittivo. L'assessore ha confermato che la sovrintendenza ha fornito il materiale richiesto e che presto sarà definito un cronoprogramma per completare l'opera già in fase avanzata. Ogni volta che i lavori si fermano il sito si trasforma immediatamente in discarica e così alcuni residenti di via di Bartola hanno organizzato nel pomeriggio di ieri un sit-in per chiedere conto dei tempi di completamento del museo a cielo aperto previsto in quell'angolo centro storico. Al sit-in hanno partecipato anche l'assessore Viviana Altamore e il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. Ancora una volta la musealizzazione della necropoli affiorata durante i lavori per la fibra ottica si è bloccata e i cittadini vogliono capirne i motivi. Siamo venuti qua a un gruppetto di amici insieme al comune di Gela perché vogliamo sapere ed esigiamo che questo luogo venga finalmente ultimato questo sito. Praticamente da quello che ho visto io tre settimane fa hanno fatto dei lavori meravigliosi. Adesso non sappiamo per l'ennesima volta perché si sono fermati. Il motivo dello stop al momento sarebbe legato al fatto che Open Fiber che si sta occupando della realizzazione dei lavori attende dalla sovrintendenza i contenuti multimediali da inserire nel totem descrittivo che verrà collocato nel sito. La sovrintendenza come indicato allo stesso assessore Altamore ha da poco provveduto a farlo. Ci sarà un ulteriore incontro per stirare il cronoprogramma definitivo che dovrebbe portare così all'ultimazione dei lavori in fase piuttosto avanzata a circa tre anni dall'avvio. Quanto era in competenza del comune di Gela è stato fatto ed inoltre sono stati già svolti degli incontri con la sovrintendenza e con Open Fiber e con la ditta esecutrice ai lavori per mettere in comunicazione i diversi soggetti e individuare le tappe che devono essere compiute per portare a ultimazione il lavoro. A questo fine possiamo dire che siamo arrivati alle battute finali e che quindi abbiamo un aggiornamento per la prossima settimana che era già calendato nel quale avremo proprio il cronoprogramma degli ultimi passaggi che devono essere compiuti per l'ultimazione dei lavori. L'assessore, il consigliere e i cittadini intervenuti comunque invitano tutti a rispettare quella zona evitando di trasformarla in una sorta di area franca con rifiuti di ogni tipo. Io l'altra sera ho denunciato con una foto dei sacchi di spazzatura proprio qui dietro non so se ancora c'è il sacco pieno di spazzatura, sempre anche all'interno ci sono anche dei sacchetti non so se qualcuno ha tolto perché io sono passato e ho fatto delle foto e quindi puntualmente l'indomani non c'erano quindi sicuramente qualche furbetto avrà fatto la sua parte. La cittadinanza deve essere consapevole della bellezza dei siti e dei reperti che la nostra città possiede e deve partecipare insieme a noi alla migliore gestione possibile degli stessi quindi certamente la cittadinanza deve maturare una coscienza maggiore e un'attenzione, una protezione proprio per i siti stessi. La cronaca ancora una volta si tratta di presunte truffe tributarie ricostruite dagli investigatori tra gli imputati e anche due gelesi. Le contestazioni dei PM ennesi vengono mosse nei confronti di Massimiliano Mangione, Giovanni Interlicchia, Luigi Bonanno, Giovanni Guardiano, Antonio Alessi, Giuseppe Arabbia, Imran Rome, Alias Gar, Naved Iqbal, Mauro Ragazzoni, Giuliano Pesenti, Cristina Ragazzoni, Michele Ragazzoni, Giorgio Fanton e Daniele Scandella. Le richieste di rinviaggiudizio è stata formulata pure per i gelesi Matteo Collura e Rosario Catalano entrambi difesi dal legale Angelo Caffà. I legali si sono opposti a rinviaggiudizio ritenendo che le operazioni ricostruite dagli inquirenti non siano irregolari. Dalle indagini sono emerse presunte irregolarità sull'IVA, sull'accollo dei crediti e sulle compensazioni. Una nuova verifica sui fondi per la rete fonieria di Manfri è stata effettuata ieri dall'assessore Fave e dal consigliere Cuvato. Gli estanziamenti ci sono e servirà un'integrazione ulteriore. Intanto si spinge per uno straccio funzionale con i fondi già a disposizione. Era stato indicato al commissario per la depurazione una conferma arrivata agli uffici regionali del Dipartimento della Programmazione. Circa 3 milioni 300 mila euro per il sistema fognario di Manfria sono ancora a disposizione. L'assessore Giuseppe Fave e il consigliere del PD Antonio Cubato hanno effettuato una verifica negli uffici palermitani. Ci sono le condizioni per andare avanti, così hanno spiegato. C'è la massima attenzione dell'amministrazione comunale e anche del PD. Si tratta di un'opera, secondo Fave e Cuvato, da legare al collettore. Si lavora sullo stralcio funzionale per partire anzitutto con i fondi a disposizione. L'incremento dei prezzi ha determinato l'esigenza di un'integrazione da circa 1 milione 800 mila euro. Fave e Cuvato sono convinti che si debba partire da subito con i circa 3 milioni già previsti. Successivamente si integrerà con il resto. I fondi principali ci sono e si dovranno individuare gli stanziamenti ulteriori. Fave e Cuvato sono in contatto con i vertici di Ati e Caltacqua. Il progetto per il sistema fognario di Manfria da estendere alle altre frazioni è stato vagliato in linea tecnica. Durante gli incontri palermitani c'è stata la possibilità di affrontare un altro nodo, la ripresa dei cantieri per il raddoppio del depuratore consortile all'interno del sito di raffineria. I lavori sono fermi da tempo per via di un aumento netto dei prezzi. Occorrono almeno altri 4 milioni di euro. Si cerca di capire se sia possibile intervenire con fondi FSC. Le verifiche sono state condotte su iniziativa Dede ma anche attraverso l'ex parlamentare regionale Calogero Speziale. Il ciclo fognario della depurazione è essenziale pure per superare le infrazioni comunitarie. Nelle ultime settimane si sono susseguiti gli interventi pubblici a garanzia dell'accordo di programma per l'area di crisi locale. La scadenza finale sulla base dell'atto integrativo di settembre di due anni fa è fissata per giorno 23 ottobre. Ministero e Regione hanno sempre confermato il budget destinato ai progetti di rilancio del territorio alternativi a quelli di Eni. Dopo due avvisi, entrambe coordinati da Invitalia, il borsino parziale segnala solo un investimento concretizzato per il ciclo del packaging. Nel secondo step ancora in essere sono cinque le proposte di istruttori ha ottenuto tutti i sì per il finanziamento. Alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo tenutasi un mese fa hanno partecipato il sindaco di Stefano e l'assessore Franzone. A dieci anni dall'intese per la riconversione del sito Eni gli investimenti alternativi non si sono visti. Perdere il 21 milioni sarebbe l'ennesima beffa che probabilmente il governo regionale e quello nazionale cercheranno gli evitati. C'è stata forte concitazione ieri sera in Consiglio Comunale. Sono stati approvati variazioni e debiti fuori bilancio ma la burocrazia comunale è ancora una volta sotto osservazione. Un dissesto causato anche dalle inefficienze della burocrazia comunale. Questo in sintesi l'approccio che la maggioranza non ha voluto sottacere nel corso della discussione in aula consigliare su debiti fuori bilancio pervenuti per il voto. Alla fine l'assenso c'è stato così come alle due variazioni di bilancio per gli stanziamenti a destinare alle manutenzioni e alle infrastrutture e ancora per il settore servizi sociali. A fare accendere le micce però sono stati i propri debiti fuori bilancio. Il capogruppo di una buona idea Giovanni Giudice si è rivolto alla burocrazia dell'ente per avere riscontri sulla collocazione temporale dei debiti, sull'eventuale competenza, la commissione straordinaria liquidazione e infine sull'osservanza e la cronologia tra tutti i creditori e l'ente. Di fatto è emersa l'assenza di un quadro analitico a partire dalla cronologia. Non c'è un'elencazione vera e propria, manca una lista dettagliata con la collocazione temporale. Sia la segretaria generale sia la dirigente del settore finanziario hanno descritto una situazione ancora in divenire. Sono in fase di ricostruzione dei debiti fuori bilancio per gli anni 2022 e 2023. Sono almeno invece 550 le istanze avanzate dai creditori e l'ente attualmente in dissesto e nei cui uffici da mesi si è insediata la commissione straordinaria di liquidazione. Un quadro definito ma anche la reazione dei consiglieri di una buona idea è stata vehemente debiti fuori bilancio maturati per ritardi dirigenziali o per un'osservanza e devono determinare segnalazioni ed eventuali sanzioni. Questo hanno voluto rimarcare il civico Davide Sincero e l'altro consigliere del gruppo Rosario Faraci. Sincero ha parlato anche della necessità di una segnalazione alla procura della Corte dei Conti. I civici si sono rivolti al sindaco Di Stefano presente in aula affinché avvi delle iniziative su questo fronte. Faraci ha insistito sul fatto che non si possano creare debiti fuori bilancio per somme irrisorie che però generano giudizi e costi maggiorati. La burocrazia comunale è chiamata alle proprie responsabilità e così ha confermato il presidente della commissione bilancio Vincenzo Tomasi. Faraci sulla finale ha stigmatizzato l'assenza totale dell'opposizione. Tra le fila della maggioranza rimangono le ormai chiare diffidenze del capogruppo Demghetan Orlando assente al pari dell'altro consigliere del partito al abiso. Erano le uniche defezioni al blocco della coalizione del sindaco che comunque è riuscita ad avere i numeri per approvare gli atti in aula si tornerà la prossima settimana. Il comune nella commissione speciale politiche giovanili di Anci la proposta la formalizzata ieri l'assessore del comune di Ragusa Simone Di Grandi in visita a Palazzo di Città ha incontrato il sindaco Di Stefano, l'assessore Altamore, l'ex candidato MPA Giuseppe Gallo e tra giovani che hanno sostenuto la coalizione del primo cittadino. Di Grandi è attualmente coordinatore regionale Anci per le politiche giovanili. L'amministrazione con l'assessore Altamore e con Gallo sarà a termine il 9 novembre per la seduta della commissione speciale Anci. Ad inizio anno, a termine di un percorso di selezione con avviso pubblico, la nomina di esperto della commissione speciale politiche giovanili è stata affidata da Anci all'avvocato di Italo Refice che in questi mesi ha svolto la propria attività di supporto. Scade oggi la proroga in essere per l'accordo di programma. Dopo due anni gli investimenti latitano, il governo nazionale e quello regionale hanno pronunciato un rinnovo che va però ancora ufficializzato. Nelle ultime settimane si sono susseguiti gli interventi pubblici a garanzia dell'accordo di programma per l'area di crisi locale. Il ministro Adolfo Urso, senza timore di smenti, ha riferito che sarà prorogato nuovamente. La scadenza finale sulla base dell'atto integrativo del settembre, due anni fa, è fissata per oggi il 23 ottobre. Infatti è il termine ultimo sia in sede di gruppo di coordinamento e controllo sia a livello ministeriale. Si ritiene che i fondi rimanenti per circa 21 milioni di euro non saranno persi. Ministero e Regione fino ad oggi hanno sempre confermato il budget destinato ai progetti di rilancio del territorio alternativi a quelli di Eni. Dopo due avvisi, entrambi coordinati da Invitalia, il borsino parziale segna solo un investimento concretizzato per il ciclo del packaging. Nel secondo step ancora in essere sono cinque le proposte in istruttoria e una ha ottenuto tutti sì per il finanziamento. Per il resto nient'altro. alla riunione del gruppo di coordinamento e controllo tenutasi un mese fa hanno partecipato il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone. L'amministrazione comunale vorrebbe concretizzare progetti per coprire integralmente il fondo da 21 milioni per il momento quasi del tutto inutilizzato. I progetti scarseggiano, come sottolineato dai funzionari regionali. I tempi sono spesso lunghi nelle attività istruttorie e manca uno sportello locale dedicato alle imprese ai gruppi intenzionati ad investire. La legge 181 non pare lo strumento migliore per incrementare le proposte progettuali. Oggi quindi scade proprio l'ultimo giorno dell'accordo di programma, almeno per quanto riguarda la proroga concessa due anni fa. A dieci anni dalle intese per la riconversione del sito Eni, gli investimenti alternativi non si sono visti. Perdere i 21 milioni sarebbe l'ennesima beffa che probabilmente il governo regionale e quello nazionale cercheranno di evitare. Il bilancio attuale non è favorevole e l'impalcatura normativa dovrà essere rivista in profondità per cercare di dare aperture ai progetti. Il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, sarà possibile effettuare una donazione straordinaria presso il reparto di medicina trasfusionale del Vittorio Emanuele Di Gela grazie all'evento, una donazione da paura organizzata dall'Associazione Late Maurizio Nicosia. Quello che si avvicina sarà un Halloween speciale grazie all'Associazione Late Maurizio Nicosia, che ha organizzato l'evento Una donazione da paura. Non ci saranno travestimenti spaventosi né brutti scherzi, ma solo tanto sangue. Quello dei donatori del reparto di medicina trasfusionale del Vittorio Emanuele Di Gela. Giorno 31 ottobre, donatori ed aspiranti donatori che si prensenderanno nel reparto sito al primo piano dell'ospedale potranno infatti vivere la festività con uno spirito diverso, quello del dono. Quest'anno abbiamo voluto festeggiare la festa di Halloween in modo particolare, cercando di portare donatori e aspiranti donatori presso il cenno trasfusionale, perché più che altro ci serve a rilanciare e informare la collettività che da lunedì al sabato anche al cenno trasfusionale si può donare. Tutti possono avvicinare, tutti sia per donare che, ripeto, perché per gli aspiranti donatori che vogliono venire a vedere se sono idonei alla donazione. Magari un domani diventare donatori. I donatori servono sempre, quindi più ce n'è meglio è. L'iniziativa ha lo scopo principale di rilanciare il reparto di medicina trasfusionale, che passa dallo scambato rischio di chiusura per la mancanza di organico, al contare oggi due unità mediche in pianta stabile, che permettono di effettuare le donazioni da lunedì al sabato anche presso l'ospedale. Questa iniziativa è assolutamente da apprezzare. Purtroppo la medicina ha molte esigenze, per cui c'è necessità in tanti campi e allora lo sforzo deve essere sempre più forte, per cui noi dobbiamo ringraziare lo sviluppo della medicina che attraverso tante situazioni riesce ad aiutare tante persone e quindi il sangue diventa sempre un bene più prezioso. Proseguono così le iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della donazione di sangue ed emocomponenti, un gesto semplice, sicuro, che rappresenta un grande aiuto per gli altri. Nel periodo d'estate c'è stato un po' di carenza di sangue, ma come diceva poco fa il medico leggermente sta andando benino, non bene, benino, si è inclimentato qualcosa in più. Speriamo bene che si avvicino al mondo della donazione così daranno un dono e aiutando tutti gli altri che ne hanno di bisogno. Donare non costa nulla però è un grande regalo per chi riceve. Esatto, donare non costa nulla però è un gesto che dona vita a tutti gli altri che ne hanno bisogno. Tra l'altro ricordiamo che si può anche donare il plasma. Assolutamente sì, si possono donare il plasma, le pastrine, si può fare qualunque cosa con le donazioni. Il sangue viene usato per qualsiasi cosa, per gli incidenti, per le partorenze, per chi ha bisogno di sangue, non è solo per i talassemici ma per tutti, tutti gli ammalati che ne hanno di bisogno. Speriamo che tanta gente non avrà mai bisogno di trasfusione. Per l'iniziativa Una Donazione da Paura Halloween 2024, l'associazione offrirà un dolcetto a tutte le persone che si recheranno a donare il sangue. All'iniziativa sarà presente la cooperativa Carpe Diem che con i propri ragazzi accompagnerà ai donatori. Lo sport Angelo Caronia è un nuovo giocatore del Gela. L'esterno palermitano si è svincolato solo ieri dall'Unitas Shack e si è potuto leggere e legare alla corte dei presidenti Totò Vittoria e Marco Scherr. Ha firmato col Gela anche all'interno del centrocampo Alessandro Di Dio, ex Gela FC con numerose esperienze alle spalle nel campionato di Serie C. Ufficiale la pro dalla corte biancazzurra di Angelo Caronia e Alessandro Di Dio. I due si allenano già da qualche giorno con il gruppo squadra del Gela e domenica potranno essere convocati per la trasferta contro l'Accademia Trapani. Il primo è un esterno dal piede Ducato nato nel 1993. Ha iniziato la stagione agonistica con l'Unitas Shack di mister Angelo Galfano ma non ha trovato molto spazio e per questo motivo ha deciso di fare le valigie e trasferirsi a Gela. Dove ritrova tanti amici con cui ha condiviso avventure calcistiche in giro per l'isola con altre importanti casacche. Su tutti Caronia ritrova l'amico Peppe Prestia, ospite durante l'ultima puntata di Bar Sport che ci ha parlato del rapporto quasi fraterno fra i due palermitani. Angelo è come se fosse un mio fratello acquisito, abbiamo giocato tanti anni insieme, un ragazzo eccezionale e poi a livello calcistico non si discute, un grandissimo giocatore. Secondo te perché a Shack, senza andare nello specifico, forse perché non ha trovato spazio? Ha trovato poco spazio, magari l'inizio preparazione non era così pronto fisicamente, poi ogni allenatore ha le sue idee, quindi non è sempre colpa del giocatore o d'allenatore, ci sono delle situazioni che non possiamo controllare. Alessandro Diddio invece torna a Gela dopo un anno e mezzo. Due stagioni fa infatti vestì la maglia del GFC nel girone di ritorno, portata in giallo-nero proprio dal DS Biancazzurro Alessandro Bonaffini. Si tratta di un interno di centrocampo con grande esperienza alle spalle. nativo di Floridia, Diddio vanta un importante numero di presenze in ZRC con le maglie di Taranto, Sorrento, Prato, Ancona e Siracusa. Con umiltà e schiettezza, Bar Sport e Prestiacci ha parlato di questo paradosso del gruppo squadra Biancazzurro, che in settimana si allena a mille e prepara la gara con lo staff tecnico nella maniera più meticolosa possibile, mentre nelle sfide fuori casa non riesce ad esprimere al meglio le proprie idee di gioco e soffre l'intensità delle squadre avversarie. Cosa è successo? Non te lo so dire perché ci ritroviamo a parlare fra di noi, perché non era possibile fare quelle prestazioni in campo, però non trovavamo il motivo. Magari avevamo solo bisogno di riacquistare un po' di fiducia in noi stessi e la vittoria di domenica ci ha aiutato, ma ti posso assicurare che durante la settimana noi ci allenavamo a mille e ci usciamo dal campo sfiniti. Era tanto che non mi capitava di allenarmi in questa maniera, ti con la verità. Poi per quanto riguarda chi gioca e chi non gioca, qui siamo tutti giocatori importanti, cioè noi abbiamo un unico obiettivo, quindi posso giocare io, può giocare chiunque, Angelo, Luca. Chi entra, entra, sa che deve dare il massimo per raggiungere la vittoria finale. Io li conosco personalmente una, abbiamo giocato tanti anni insieme e ti posso assicurare che questa squadra non è, non voglio esagerare, ma nemmeno al 50% delle proprie possibilità. È intervenuto sull'argomento anche Salvo Cojimano, trequartista gelese che domenica ha terminato il cartellino, ma che nelle gare lontane dal Vincenzo Presti è stato tre meno brillanti. L'ex-N in ogni caso si è detto fiducioso in vista del prosieguo di questa stagione ed è sicuro che questa squadra riuscirà a sfatare questo delicato tabù relativo alle gare in trasferta. Sono state due settimane abbastanza intense perché quando arrivano delle prestazioni del genere non si ha mai una spiegazione. Abbiamo cercato di lavorare soprattutto sull'aspetto mentale, oltre sull'aspetto fisico che durante la settimana non ci risparmiamo mai. Facciamo degli allenamenti sempre al massimo tutti, dal primo all'ultimo, quindi non si spiegava il fatto come potesse arrivare una prestazione del genere. Sicuramente sarà una cosa mentale che magari non siamo stati tranquilli, magari abbiamo avuto un avvio di campionata abbastanza difficile, ma sono sicuro che ce ne usciremo il prima possibile. altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, adesso vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.